variazioni necessarie alla luce insomma delle novità che appunto arrivano dal governo nazionale, c'è ulteriori finanziamenti in arrivo e quindi era necessario rimodulare tutto. Sì bisogna dire che l'amministrazione sta lavorando tantissimo per il reperimento di risorse finanziarie che pervengono dallo Stato, la comunità europea o dalla regione. Si sta costituendo un parco progetti grazie al grande lavoro fatto dalla collega assessore Andrea Napatti ma anche dall'assessore Safina e di tutto il comparto burocratico dell'ente per aver presentato una miriade di progetti che adesso man mano in questi ultimi periodi stanno arrivando a finanziamento. Arrivando a finanziamento è necessario inserirle nel bilancio che è già stato approvato di previsione ma è necessario anche modificare il cronoprogramma di attuazione e l'inserimento di nuove opere nel piano renale dell'Europa pubblica e quindi diventa necessario produrre un presa d'atto, una votazione da parte del Consiglio Comunale sulla quale si siamo impegnati insieme a questo chiaramente anche altre misure come l'acquisto dei computer per il lavoro agile piuttosto che altre misure di intervento di cui l'amministrazione si è fatta carico ma quello che voglio sottolineare è questo grande lavoro che comincia a vedere la luce adesso con il riconoscimento di ammissibilità a finanziamento di un gran numero di opere molte di queste importanti, alcune ancora solamente a livello di progettazione altro a livello già di realizzazione esecutiva di alcune opere che sono talmente numerose e talmente rilevanti che cominciano a creare un vero e proprio ingorgo deliberativo che in questi giorni che sono di scadenza perché non è stato postergato il termine per l'approvazione della variazione di bilancio che rimane al 30 novembre ci impone a fare le corse letteralmente e fare la lotta con i minuti e le ore che ci sono a disposizione per poterle portare al Consiglio Comunale sottoporre la valutazione e la disamina del Consiglio Comunale per essere approvate entro il termine di scadenza. Grazie 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 Grazie